Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato attorno alle 14 di martedì a Gandino. Le fiamme sono divampate in un'abitazione situata a monte della frazione Cirano, per la precisione in località Col Curie. Nello stabile abitavano mamma e due figli, al momento fortunatamente assenti. Una vicina mi ha chiamato per segnalare la presenza di fumo denso e fiamme, spiega la proprietaria, evidentemente sotto shock. E subito abbiamo lanciato l'allarme ai vigili del fuoco. Le fiamme, sulla cui origine sono in corso i necessari accertamenti, hanno attaccato una cadastra di circa 250 quintali di legna, alimentando lingue di fuoco che hanno presto interessato la copertura e l'appartamento della famiglia. Difficili le operazioni di spegnimento messe in atto da squadre di vigili del fuoco giunte da Gazzaniga, Clusone e Bergamo, a seguito delle difficoltà nel raggiungere l'abitazione. Solo i moduli leggeri utilizzati negli interventi boschivi hanno potuto raggiungere il luogo dell'incendio e provvidenziale si è rivelata la presenza delle cisterne di recupero dell'acqua piovana ad uso della cascina, da cui i pompieri, con l'ausilio dell'elettropompa, hanno tratto l'acqua necessaria. Ad Armanforte e i vigili del fuoco anche due squadre di volontari antincendio boschivo protezione civile. Sul posto i carabinieri di Gandino. Un primo sommario inventario dei danni stima almeno 100 metri quadrati di tetto distrutti insieme ad una porzione dell'appartamento. A tarda sera erano in corso gli accertamenti per verificare l'agibilità della restante ala della cascina. La famiglia è stata nel frattempo ospitata da parenti.